Nemmeno il tempo di chiudere strada Carloni con i primi giorni di quattro mesi che serviranno ad accelerare la realizzazione della circonvallazione di Muraglia da completare entro l'estate, che il Comune di Pesaro sposta già l'attenzione su un altro progetto di radicale rivoluzione alla viabilità, quello dell'interramento della statale su Viale della Vittoria all'altezza di Viale della Repubblica per costruire un'unica grande passeggiata da Piazza del Popolo alla Palla di Pomodoro. Per dirla con le parole di Matteo Ricci, una rambla di ispirazione catalana che colleghi centro e mare. Progetto sempre meno visionario e sempre più concreto, perché il Comune ha affidato l'incarico per il disegno del progetto definitivo all'ingegner Marco Bianchi di Sassofeltrio. A lui il compito di studiare il progetto che porti le macchine ad inavissarsi di 8 metri in una statale che diventerebbe sotterranea a partire da un pendio che comincerebbe a scendere a 30 metri dal semaforo. L'obiettivo del Comune è chiaro, creare un collegamento pedonale ciclabile fra centro e mare senza interferenze delle autovetture. L'ingegner Bianchi si è dato circa tre mesi per consegnare un progetto che dovrebbe costare circa 5 milioni di euro. L'ostacolo più grande ora diventa capire come conciliare lo scavo con la rete sotterranea di sottoservizi, da quella a fognare l'acquedotto fino a luce gas. Insomma, un lavoro complesso e a inizio 2023 si capirà se fattibile e con quali tempistiche.